Luisa di Savoia ha compiuto 18 anni, ma, rispetto alla sorella Vittoria, di cui sappiamo molto, è sempre apparsa molto più riservata. Lo scenario è mozzafiato. L'isola di Cavallo è uno dei luoghi più belli tra l'Italia e la Francia. È anche un'isola privata, gestita da un consorzio, dove sono presenti poche ville private. Il posto ideale dove festeggiare il compimento dei 18 anni in grande stile Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau sono sposati da più di 20 anni, e dalla loro unione sono nate Vittoria e Luisa. E proprio Emanuele Filiberto ha parlato delle figlie durante un'intervista a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin, Vittoria ha 20 anni, e Luisa 17. Entrambe vivono all'estero. La grande studia all'università in Inghilterra, mentre la piccola è in un collegio a Oxford. Proviamo a vederci il più possibile tutti insieme. Nata il 16 agosto 2006, Luisa di Savoia. È nata a Ginevra, in Svizzera. Esattamente come la sorella Vittoria, nata, invece, il 28 dicembre 2003. Ma ambedue hanno vissuto per lo più a Parigi insieme alla mamma. E se di Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia sappiamo molto di più, come, per esempio, il fatto che sia lei l'erede al trono inesistente d'Italia, di Luisa molto meno. Vittoria vive nel Regno Unito, studia storia dell'arte e scienze politiche, ed è anche una royal influencer. Se così possiamo dire Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria di Savoia, invece, è decisamente molto più riservata. Una piccola curiosità riguarda il significato del nome Gavina, che significa tangibile e perpetua stima. Considerazione e vera amicizia verso gli abitanti dell'isola, da parte di tutta la famiglia reale e dei principi di Piemonte e Venezia.